Annunciati i vincitori della 63esima edizione del premio Termoli, il MACT ad annunciare i vari vincitori per la sezione Artivisivi e la giuria formata da Cristiana Perrella, Caterina Riva e Francesco Stocchi. Ha proclamato Chiara Enzo, veneziana classe 1989, con l'opera Strettamente Legati del 2023, composta dal dittico pittorico Il profilo di Mia Madre Transito. L'opera della Enzo entrerà a far parte della mostra permanente del museo, vincitrice del premio Mostra Irene Fenara, bolognese classe 1990, che nell'autunno del prossimo anno realizzerà una mostra personale e un catalogo monografico. Per la sezione Architettura e Design, la giuria composta da Cristiana Perrella, Federica Sala, Marco Rainò e Paolo De Matteis Larivera, ha segnato il primo premio al progetto Personal Library dello studio Sara e Sara di Lubiana. Le opere più votate sono state dell'artista napoletano classe 1989 Diego Cibelli. I voti sono stati raccolti al museo dal 27 maggio al 15 settembre. Il progetto più votato dal pubblico invece è stato Costellazioni dello studio Ortiz e Su di Siviglia.